Pioggia di gol, questo potrebbe essere il titolo della prima del film del campionato di prima gara 2B Grandi prestazioni alle soldi dei grifoncini, buon possesso palla, molta azione da gol e pochissimi dischi difensivi Passo bene i padroni di casa, al sesto Juan diceva palla, prova conclusione in aria ma spala alto 3 minuti più tardi sui sviluppi di un corner attraversione alla destra, Andir colpisce di testa ma manda alto Passano solo altri 3 gii di odologio e Juan trova il gol, sfruttando un cross e colpendo bene di testa Buona prestazione del centrocampista della prima squadra, osservato speciale dagli occhi di Oddo, attenti anche sulle giovanili Poco prima della mezz'ora, Vagnoni è entrato a piedi in aria, tende la conclusione alla destra, che si stampa sul palo Prima di rimbalzare e tornare in campo, l'ultima occasione bianco-rossa della prima frazione è una pepita d'oro Che Rossino riesce a fare sua, Juan lancia in profondità il numero 9, che supera Massetti Ma tu per tu con Giacoponi si fa ipnotizzare, perde il tempo di gioco e lascia sfumare nel nulla l'azione L'unica volta che il piso si rende pericoloso è intorno alla metà del primo tempo Con Iovino, subentrata Gianni, che stoppa la sfera al limite e lascia partire a conclusione, sparando però alto Nella seconda frazione i griffoncini si sbloccano e danno il via allo scorso di un fiume di gol Al decimo, crossa la destra, Vagnoni però col piede di testa, ma c'entra un avversario La palla termina su i piedi di Mangialatti, che resta di insaccare la porta praticamente sguarnita Due minuti più tardi, Corradini strappa la palla dai piedi di Arapi e si dirige verso la porta Mancando incredibilmente l'appuntamento con il gol Ma il Perugia rimane in attacco, da avere un'azione da Cambolesca ed è ancora Mangialatti a farsi trovare Al momento giusto, nel posto giusto, guadagnando a tripla l'istanza gli avversari Al ventesimo, protagonista sempre il numero 10, che entra a Beninale, passa abilmente in mezzo alla difesa avversaria e viene atterrato Per centi di Viterbo e riguarda senza alcun dubbio, Radossi si incarica della battuta Dal dischetto calcia preciso sotto la traversa e spiazza Jacoponi, che si è buttato alla propria sinistra Il Perugia poi non ha alcuna intenzione di fermarsi, corner battuto alla destra, Giordani in corna e trova dietro il 5-0 Per avere la fine, il Pisa riesce a trovare il gol della bandiera, con una bella azione quadale e buffa, che entrata in area, beffato il giro da Aliza Con le immagini di Giorgio Polli vediamo anche il gol del 6-1 di De Araujo, che al gioco ormai deciso trasforma un traversone in gol Ottima avvia dei griffoncini, Pisa da dividere in blocco Il Perugia sta nascendo, è nato il 21 luglio, stiamo mettendo in cantiere idee, progetti, cerchiamo di continuare su questa strada È stato un buon inizio, i ragazzi hanno voluto fortemente iniziare forte, sinceramente sono molto contento Vi ringrazio, ma come ho detto noi gli spogliatoi, dobbiamo festeggiare e da domenica rimettiamo la testa sull'obiettivo prossimo, che è sempre quello più difficile Guardando sempre con un occhio critico, invece cosa bisogna migliorare nonostante la grande prestazione? Bisogna migliorare l'attenzione, bisogna migliorare l'atteggiamento, bisogna migliorare l'applicazione in quello in cui si fa e in quello in cui si lavora Bisogna migliorare tanti aspetti, alla fine dei conti questi sono ragazzi che stanno completando un percorso Devono migliorare, devono crescere sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista della squadra ci sono cosine che aggiustiamo in settimana, piano piano, abbiamo iniziato adesso Grazie mille, siamo qua con Giuseppe Mangialotti, due gol, usi gol al Proquelato, probabilmente premio di MVP della giornata, ti cani di essere il Petro Iemmelo della primavera? Beh, io direi che è tutto merito della mia squadra, che se abbiamo vinto non è grazie a me ma è grazie a loro Perché abbiamo lottato fino alla fine, non abbiamo mai mollato e si è visto sul campo